Lui, ritiratosi dalla politica, manteneva a sue spese con vecchi collaboratori, 7-8 persone, una segreteria al servizio dei cittadini e anche al servizio di alcuni ministri, perché alcuni ministri, non faccio i nomi per riservatezza, si rivolgevano a lui per consigli o per una consulenza quando si trattava di proporre delle leggi governative. Il pomeriggio si dedicava alla lettura, guardava la televisione, si interessava di sport eccetera e quando potevo lo andavo a trovare. Gli ho chiesto, ma tu adesso che sei fuori, che cosa ti senti? C'è qualcosa che ti manca? E lui mi ha risposto, niente affatto, io mi sento libero, mi sento tranquillo, perché poiché la mia attività era tutta imperniata sul soddisfacimento dei miei doveri, avevo sempre la preoccupazione di non riuscire a fare tutto, di non riuscire a fare tutto bene e questo mi creava tensione. Quindi questa è la dimostrazione che il potere può essere utilizzato per crearsi una corazza, una maschera con cui apparire, oppure può essere il mezzo per realizzare delle cose giuste che uno si è prefisso di realizzare. Perché il potere è una cosa, le responsabilità personali sono un'altra, ma sul piano umano siamo tutti uguali.